Stava uscendo dal suo garage a bordo di un'utilitaria quando i carabinieri della sezione operativa di Marano di Napoli lo hanno fermato e controllato. E' così che i militari hanno rinvenuto nel veicolo 150 grammi di cocaina e oltre 500 euro in contante ritenuto provento illicito. A finire in manette per detenzione di droga a fini di spaccio un 33 e incensurato del posto. Nel veicolo anche le chiavi di un box all'interno del quale i carabinieri hanno rinvenuto 6,5 kg di hashish, 627 grammi di marijuana, 22 di cocaina, materiale vario per il confezionamento, due serbatoi per arma da fuoco e un proiettile calibro 9. Nell'abitazione del 33enne anche 400 euro in contante ritenuto provento illicito e altre due dosi di marijuana. Le perquisizioni sono state estese anche nell'abitazione del proprietario del box auto, un incensurato 43enne di Marano, anche lui arrestato per lo stesso reato. In casa infatti, oltre a materiale per preparare le dosi, deteneva un chilo di marijuana e 34 grammi di cocaina. Il 33enne è stato tradotto al carcere di poggio reale, il 43enne è stato invece sottoposto ai domiciliari. Entrambi sono in attesa di giudizio. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS